Bastano un computer e una connessione internet per contribuire alla ricerca sul Covid-19. Si tratta del progetto Rosetta, tramite cui è possibile mettere a disposizione dell'Università di Washington la potenza del processore del proprio PC, così da contribuire a diversi progetti, tra cui ultimamente quello che mira a individuare un vaccino per il coronavirus. È fondato sul calcolo distribuito, quindi ogni utente può mettere a disposizione di questo progetto il proprio PC per effettuare delle elaborazioni. Le elaborazioni riguardano la previsione tridimensionale delle proteine e questo studio sull'elaborazione tridimensionale serve nella maggior parte delle cure delle malattie più note. Ognuno con la propria piccola potenza dà quella goccia in più nel progetto e milioni di gocce fanno sì che la potenza di calcolo sia enorme rispetto a ciò che potrebbero fare loro con 10-100 PC. In questo caso è come se loro stessero lavorando con migliaia, se non milioni di PC in quest'ultimo periodo. In pratica è semplice perché è sufficiente installare un piccolo programma che si chiama Boeing, che è la piattaforma su cui gira tutto il progetto. Non occorre chissà quale computer, né che questo rimanga sempre acceso. Secondo i tecnici informatici, mettere a disposizione il proprio computer non comporterebbe alcun rischio riguardo privacy e sicurezza informatica. Non c'è nulla di insicuro perché il programma semplicemente si connette sui server dell'Università di Washington e acquisisce delle work unit, che sono queste elaborazioni, le acquisisce, le scarica e inizia a elaborare. Intanto utilizza un canale ufficiale e non vengono aperte porte in ingresso sul PC. Quindi è un qualcosa che controlliamo noi dal nostro software e basta. Oltretutto non può essere sfruttato esternamente perché è un canale chiuso con l'Università di Washington e basta. Il progetto su scala mondiale comprende centinaia di milioni di utenti. In quest'ultimo mese si è centuplicato il numero degli utenti, quindi sono diventati diversi milioni.